Dopo la prima vittoria in campionato e danni della Fidelisandria, il Taranto riprende a lavorare per preparare la difficile trasferta di Pagani contro una Gelbison nelle scorse ore affidata alle cure di Di Sanso che ha sostituito l'esonerato esposito. Capuano, che per l'occasione tornerà a seguire i suoi dalla panchina, non avrà defezione a livello disciplinare, mentre sul fronte a infortuni tutto dipenderà da quanto accadrà nel corso della settimana. Il tecnico, malgrado siano diverse le dinamiche sulle quali lavorare ancora, ha avuto comunque il merito di dare un'identità ben precisa al Taranto. Più compattezza in retroguardia, maggiori geometrie a centrocampo e soprattutto intuizione di impiegare guida nelle vesti di sottopunta per garantirgli maggiore visione verso lo specchio della porta. Buone notizie anche sul fronte infermeria, provvidenziale il rientro di Diabì, il cui impiego dovrà comunque essere oculato nel corso delle settimane, mentre a stretto giro dovrebbe tornare disponibile anche Provenzano. L'arrivo di Piccardo a destra invece chiude virtualmente il mercato, i rosso-blu proseguiranno così fino a gennaio, poi il resto lo si vedrà.